Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video uncut. Siccome è tantissimo tempo che non li faccio da quest'estate per la precisione, vi spiego in che cosa consiste questo format. È molto semplice, sono io che parlo di determinate cose. Sono una categoria di video che faccio raramente perché molto spesso magari non trovo il tempo di mettermi davanti a una telecamera e di parlare senza un copione. Sono anche video in cui sono più naturale, sono più me stesso, sono meno attore e più persona. E come leggete dal titolo, questo sarà un video senza taglio ovviamente uncut, sarà il video andato peggio del canale negli ultimi due mesi. Sarà un video che se sei qui perché ti interessano solo i miei contenuti e non chi io sia o non ti interessa sapere qualcosa di più profondo che vada al di là di Pokémon e so che persone di questo tipo esistono, puoi anche chiudere perché non è il video fatto per te. Per tutti gli altri, per quei pochi forse che arriveranno alla fine di questo video, ci tenevo a spendere due parole sul video di domenica. Che è stato un video, vi racconto brevemente la gestazione e la nascita di quel video perché è molto molto interessante. Come sapete domenica avrebbe dovuto uscire il mio video teoria su spada e scudo che ho un attimo archiviato, posticipato per il semplice motivo che sto avendo difficoltà a trovare le parole giuste. Detto questo io ho poi registrato, o meglio ho scritto un altro video, un altro video teoria minore ovviamente che si è rivelata errata per mie ricerche e quindi ho dovuto cestinarlo. Il terzo video, la terza opzione è stata casualmente il concept analysis di Sobbold, Resile e Intellion. Tra l'altro non è partito molto bene quel video, poi si è ripreso, ma qualora ve lo siate perso ve lo lascio nelle schede in questo esatto momento. Un video particolare perché è un video che arriva in un momento in cui non stavo troppo bene, non mi fraintendete, è niente di particolare, però penso che capiti a tutti di avere quelle giornate in cui magari davvero la voglia non c'è, la voglia di fare le cose, no? La voglia di fare, la voglia di uscire, la voglia di interagire, magari ti prefiggi di sforzarti, ma poi basta pochissimo e ti fermi. Questo periodo è durato da giovedì a sabato, io venerdì mi sono sforzato, mi sono detto questa sera vado a teatro, ho preso un biglietto, ho speso 11 euro, sono bastati due fiocchi di neve per non farmi uscire di casa. Perché è così? Perché ci sono periodi che funzionano così. E però quel video, che è uscito per una coincidenza, non doveva uscire, è uscito, ed è stato un video per chi l'ha visto, in cui io ho accennato a me, al mio carattere, alla mia personalità. Raramente la espongo così su YouTube per il semplice fatto che io quando scrivo un video scrivo un copione. E di certo espongo quelli che sono i miei pensieri, soprattutto quando magari vado a toccare temi filosofici, culturali, scientifici, esprimo il mio parere, però magari mai il mio carattere. Di solito questo accade più nelle stream e anche lì raramente. Chi mi segue su Twitch ha delle prove di chi io sia veramente, perché... Poi il mondo dell'intrattenimento, il mondo della videocamera, ti porta un po' a censurare alcuni aspetti di te. Ma questo è in generale il lavoro, se si può dire. Quello dell'intrattenimento in particolare. Perché se io stessi male e venissi davanti a voi, mettendovi davanti a una telecamera, una persona sostanzialmente triste, voi stacchereste il video, il video andrebbe male e tutte le conseguenze che ne derivano. Se fai l'operaio, puoi anche lavorare esprimendo la tua tristezza. In un certo modo, in un certo senso. E quindi il mondo dell'intrattenimento è un po' così. Ti impedisce di esprimere al meglio le tue emozioni. Ogni tanto ci sta farlo. E quel video lì in particolare mi ha permesso di farlo. Come chi l'ha visto saprà, mi sono rispecchiato io molto nella linea evolutiva di Sobol, Drisail e Intellion. E non ho mancato di farlo notare in quel video. In un contesto e in una mia situazione psichica, che non deve far pensare alla malattia mentale, ma in un mio mood un po' negativo, che probabilmente non ci fosse stato, non avrebbe portato a fare quel video. Non lo avrebbe portato in quel modo, con quel tocco di sentimentalismo finale, che ho deciso di dare diversamente da quello che faccio di solito su questo canale. Sapete, io, molti mi paragonano a un Cydonia, anche se vuoi nello stile, nella struttura di fondo del canale, io credo di essere molto meno professionale di lui, se si può così dire. Detta più magari in mio favore, perché detta così sembra che io mi metta in un gradino più basso, invece semplicemente diversità, forse io tendo un po' a dissacrarmi di più. Nel senso che tendo a fare questo genere di video. E in un mood diverso non l'avrei fatto quel video, però ho notato che, e in realtà me l'aspettavo, che molti di voi invece si sono rispecchiati nelle mie parole, quindi mi sembrava giusto esprimere qualcosa oggi. Io ho parlato di me come di una sorta di Drizile. Fa strano dirlo così perché sembra davvero una cosa quasi infantile identificarsi in un Pokémon, ma tant'è. Pokémon è anche questo, se vogliamo. Io sono davvero una persona molto antisociale in alcuni contesti. Ed è incredibile quanto in realtà YouTube non lo mostri, perché come puoi essere antisociale e allo stesso tempo metterti davanti a una telecamera, a esprimere i tuoi pensieri? E la risposta è semplice, l'ho inserita anche in quel video. Io sto esprimendo i miei pensieri, oggi saremo in molti meno, però comunque mille persone, idealmente non sono poche, li esprimo a mille persone, ma davanti a me è una telecamera. Mi è molto più semplice. Se davanti a me avessi mille, in questo momento sto provando a immaginarvi, vi giuro non sarebbe la stessa cosa e voi rimarreste molto delusi da me come persona rispetto alla figura che vedete su YouTube. Magari poi in realtà non è così, ma a volte ho la sensazione che io su YouTube mostri ciò che nella vita reale vorrei effettivamente essere. Che io su YouTube mi atteggi in una maniera nella quale vorrei atteggiarmi anche nella vita vera. Ma non ci riesco. Perché non sono evoluto. Perché non sono Intellion, non sono Intellion, sono un Teresail. Mi espongo a voi, mi espongo al mondo esterno, ma non ai vostri sguardi. Sono celato. Questo filtro che è la telecamera è incredibile. È incredibile perché io sono in una posizione di vantaggio rispetto a voi. Voi quando guardate un mio video non state guardando me. Voi guardate un insieme di immagini mie che messe in movimento e sincronizzate tramite audio vi danno l'impressione di qualcuno che parla. Ma voi mentre vedete quel video, mentre state pensando di guardare me, io magari sono a dormire o sono in università. è incredibile se ci pensate quanto quanto la nostra immagine la nostra immagine e non la nostra persona riesca a essere molto più propositiva di noi. riesca a essere molto più propositiva di noi. E io sono sono pessimo in realtà nella vita vera. Io sono fortemente antisociale mi sento costantemente sotto giudizio anche con le persone più vicine a me. Davvero. Io di questo me ne accorgo e molte volte mi chiedo perché. Perché anche qui io su YouTube vi metto in mostra la mia parte più più razionale più dialettica la mia parte più filosofica in realtà io sono una persona che di certo ha questo aspetto però nei momenti di lucidità io su YouTube sono sempre lucido quando faccio un video. In questo momento sono lucidissimo ad esempio. E' fuori. E' fuori. E' in altri contesti che la mia lucidità va a troie. E e nel farlo io sono una persona molto irrazionale a dir la verità. Per questo dico che io su YouTube sono io su YouTube rifletto i miei pregi e occulto i miei difetti. In un certo senso. Costantemente sotto giudizio. Costantemente in imbarazzo. Costantemente spaventato dagli altri. Mi rendo conto di essere molte volte così e di riuscire difficilmente non immaginate quanto in realtà analizzare Sobol Trisail e Intellion abbia aiutato da questo punto di vista. Riesco difficilmente a a non sentirmi in una posizione di soggezione davanti a qualcuno. Mi viene facile magari con voi ma perché sono in una posizione di vantaggio. Sono in una posizione di vantaggio. Io a voi parlo e so di avere un'autorità. E' anche qui che sta se vogliamo la mia sicurezza nel parlarvi. So che già di me avete un'ottima opinione. E so che io non vi sto importunando con i video ma vi sto intrattenendo. Ecco molte volte nella vita ho l'impressione di importunare troppo le persone. Esempio stupido in molti a volte mi chiedete in molti no qualcuno a volte mi chiede fai collaborazione con YouTuber X fai collaborazione con YouTuber Y e perché io non faccio mai collaborazioni sul canale se non con i miei amici più stretti con cui ho iniziato YouTube perché io non so chiederle le collaborazioni mi vergogno a chiederle perché mi sento giudicato e non è una un'accusa è un mio difetto è perfettamente irrazionale perché uno dovrebbe giudicarmi se gli faccio una proposta se gliela faccio bene soprattutto perché dovrebbe giudicarmi male è irrazionalità è irrazionalità è antisocialità è paura e eppure in tutto ciò in tutto ciò a suo modo YouTube mi dà una una valvola di sfogo mi dà un modo per relazionarmi anche con me stesso se vogliamo mi dà la possibilità di trasmettere una mia immagine e magari di prenderla come esempio io molte volte mi dico cavolo ma se io fossi davvero nella vita vera come appaio su YouTube sarei una grande persona invece sono un pessimo amico probabilmente sono anche un pessimo interlocutore senza neanche rendermene conto e ci tengo a precisare questo video non è il classico video dello YouTuber che non trova più il senso di quello che fa video che si vedono tutti i giorni che giustamente ci sono e purtroppo perché io in realtà so benissimo qual è lo scopo di questo canale io sto nella mia testa iniziando delle persone alla cultura e lo sto facendo tramite un una tramite la cultura pop che è Pokémon io credo che sia inutile parlare alle persone della cultura senza far vedere quanto la cultura ci caratterizzi nella nostra vita oggi è Pokémon ma può essere qualsiasi cosa la cultura pervade la nostra società pervade la nostra esistenza e molte volte quello che si teme quello che si rifiuta della cultura è il fatto che sembri fine a se stessa invece se guardate le cose da una prospettiva culturale la cultura è in ogni cosa ed è capendo che la cultura è in ogni cosa che allora tu arrivi ad apprezzare la cultura finché anche l'istruzione non farà questo passaggio non si risolverà niente perché le persone non capiranno il senso della cultura non capiranno quanto la cultura influenza il nostro modo di vivere non capiranno il mondo e di conseguenza non saranno buoni i cittadini del mondo questo è il messaggio del canale e lo scopo di quello che faccio so benissimo cosa fare su YouTube quelle che sto facendo sono riflessioni mie più di Giovanni che di Crepe anzi solo di Giovanni che di Crepe perché ripeto Crepe è un po' la proiezione dei miei pregi qui su YouTube quando in realtà sono una persona piena di difetti e sotto molti punti di vista pessima non penso di dover dire altro penso di essermi espresso abbastanza bene anche riguardo al video di domenica voi qui su YouTube vedete una persona diversa da quella che sono e la vedete diversa per tantissimi motivi in primis è la recitazione è inutile che ci prendiamo in giro io recito davanti alla telecamera ma non nel senso che fingo nel senso che ho un copione e che tra il mio pensare il mio parlare c'è uno schermo che distorce le cose infatti questo video è molto diverso dagli altri perché? perché non ho un copione perché sto parlando con uno stream of consciousness sto parlando con il flusso di coscienza magari sono anche bravo a farlo non lo so questo me lo direte voi però ecco è raro che in realtà molti miei pensieri vi raggiungano davvero magari lo fanno nella forma un po' letteraria ma magari non nella forma personale che si addice poi a a quello che mi piace avere con voi con voi c'è uno scambio di opinioni e questo succede molto spesso in live vi invito a seguirmi su twitch perché lì è il contesto giusto per fare determinate cose perché siamo ancora in pochi però sì sapete che voi vedete una persona diversa voi vedete quello che vorrei essere quello che vorrei essere sempre ma che probabilmente non sarò mai perché non si può essere un se stesso ideale avremo sempre i nostri difetti possiamo limarli l'unica cosa che possiamo fare è limarli e anzi forse le nostre immagini ideali forse nel mio caso l'immagine di me che ho su youtube serve proprio a quello mi serve per rendermi conto di ciò che di positivo c'è in me perché molte volte quest'oggi compreso forse tendo a vedere i miei lati negativi i miei lati irrazionali e tutto ciò che di base non vedete qui su youtube vedete penso una persona abbastanza forte una persona convinta di quello che dice salda in realtà l'altro giorno mi sono messo a piangere ascoltando i carillon quindi c'è anche questo aspetto che voi non non potete percepire perché con i contenuti che faccio non non è possibile penso che un po' si sia percepito nel video di intelion perché era il contesto penso che oggi si sia percepito un po' meglio questa non è la routine non sono questi video classici che a carico però forse ogni tanto ci sta anche perché il fatto che in molti abbiate colto il messaggio che ho voluto lanciare nel video è sinonimo che non sono da solo che molti si sentono come me e lo dirò sempre la posizione di vantaggio di cui vi parlavo prima cioè il fatto che voi abbiate una certa opinione già positiva di me che dunque mi senta meglio nel parlare con voi rispetto che al parlare magari con uno sconosciuto o magari con persone banalmente reali o di cui non sono certo dell'opinione ecco questa posizione di vantaggio la posso sfruttare per aiutarvi in un certo senso o semplicemente per discuterne per parlarne magari magari invece non sono d'aiuto magari la pensate diversamente fatemelo sapere la sezione commenti è qua sotto apposta buona io credo che il video sia già durato abbastanza penso di aver detto tutto video insolito ma ci tenevo a fare un discorso di questo tipo ed era tanto che non portavo un uncut e siccome oggi avevo del tempo mi son detto vabbè carichiamo questo video andrà malissimo ma non sarà neanche monetizzato tenete presente perché è fuori scaletta e non voglio che le pubblicità interrompano un video del genere sinceramente per 2 euro faccio volentieri a meno noi ci vediamo giovedì ci vediamo giovedì sperando di editare il video con un video molto interessante la prima parte in realtà di due video e poi ci vedremo giovedì probabilmente su Twitch devo ancora vedere se riuscirò a gestirmi con la programmazione dei video per le vacanze di Natale e prego Dio che prima del 2020 io la teoria riesco a farvelo uscire detto ciò vi saluto e noi ragazzi lasciate un mi piace non penso che ci siano nuovi iscritti nel dubbio vi iscrivete social instagram campanella tutto quanto noi ragazzi ci becchiamo giovedì con un prossimo video ciao ciao Grazie.